Preside Alessandra Tallarico, un'iniziativa importante per la scuola deliberata dal vostro istituto, grazie all'Agenzia La Ginestra verrà effettuata una donazione ai ragazzi diversamente abili della scuola. L'Agenzia La Ginestra Assicurazioni ha pensato proprio al nostro istituto per questa donazione di kit e di quaderni rivolte ai nostri alunni diversamente abili. Io infatti ringrazio il dottor Fabrizio Cagliazza per aver pensato a noi. L'Agenzia si rivolge spesso al sociale, a sostegno delle famiglie e degli alunni più fragili e quindi supportando le categorie più deboli. Come i ragazzi e le famiglie potranno ritirare questi kit? Sì, attraverso dei coupon che sono predisposti dall'Agenzia La Ginestra Assicurazioni, questi coupon saranno consegnati all'istituto e l'istituto consegnerà alle famiglie degli alunni questi coupon che poi andranno direttamente a ritirarli presso l'Agenzia in via nazionale. Quindi abbiamo organizzato tutto al meglio anche per agevolare le famiglie, per non avere dei disagi. I kit donati almeno daranno un sostegno, un supporto alle famiglie anche per l'avvio dell'anno prossimo perché comunque sono diversi quaderni, quindi non riceveranno soltanto un quaderno ad alunno, ma è un kit corposo di diversi quaderni sia per la lingua italiana che per la matematica. Famiglie che hanno già dovuto affrontare grosse difficoltà in questo anno di pandemia? Sì, anche perché molti alunni diversamente abili erano considerati anche fragili, quindi hanno dovuto seguire la didattica a distanza, non sempre in presenza. È vero che ci sono stati qui nella regione Campania diverse chiusure, quindi didattica a distanza per tutti, al di là degli alunni fragili. Le difficoltà e i disagi sono stati maggiori per questa categoria di alunni. Quindi io ringrazio nuovamente Fabrizio Cagliazza per aver pensato al nostro istituto e ci saranno sicuramente altre iniziative come queste. Dottor Fabrizio Cagliazza dell'Agenzia La Ginestra, la sua agenzia si spende tanto per il sociale? Abbiamo inteso fare questa donazione che è stata, siamo lieti che sia stata ben accolta dalla dirigente, la dottoressa Dallarico, perché vogliamo dare un segnale, un segnale che è quello anche di vicinanza, perché è vero che le compagnie di assicurazioni sono viste come deputate quelle a vedere il business, ma hanno un ruolo forte, penso che abbiamo un ruolo forte anche nel sociale. Quindi questo è un modo per essere vicino anche alle famiglie di questi bambini, insomma più deboli, e in qualche modo, anche se un piccolo gesto, ci avvicina sempre di più a quello che penso sia il nostro ruolo, che dobbiamo assolvere nel migliore dei modi. Avete in cantiere altre iniziative come questa? Assolutamente sì, ma magari anche la stessa, pensiamo anche di estenderla, vediamo un attimo che i risultati produce, e poi vogliamo estenderla e pensarne anche ad altre. Iniziative successive che seguiranno queste ce ne saranno, già abbiamo in mente a partire dal nuovo anno scolastico qualche altra cosa da organizzare con la dottoressa Dallarico e il suo staff.